I pensieri nel suo libro? Sono 313 pensieri. È un numero... No, è un numero così... A caso. E quanto ci ha messo per scriverlo, il libro? Il libro ci è voluto un'esperienza di una vita, il quale il libro non viene da un giorno all'altro, ma il riepilogo di una vita intera. Devo le manifestazioni, lo devo l'iniziativa, speriamo che determinate problematiche l'anno prossimo possano essere risolte, però è una bella cosa, ce ne fossero nella zona. Sicuramente è una bella cosa. Complimenti agli organizzatori.